per creare un piano di sezione prima è necessario definire il piano sul nostro modello, piano di sezione crea appunto un oggetto sezione, dopodiché inseriremo la sezione 3D, quindi sono due fasi di lavoro, vediamo il piano di sezione, una volta selezionato, il sistema mi chiede di selezionare una faccia oppure ortogonale chiaramente ai piani ortogonali definiti facciamo faccia, diciamo che vogliamo un piano complanare con questa faccia però passante per prima cosa inserirà il piano di sezione sulla faccia e dopodiché noi la possiamo spostare ad esempio passante per questo asse subito il sistema mi presenta il piano di sezione e una serie di controlli sul piano di sezione che posso modificare intanto prima cosa questo piano di sezione è un piano di sezione modalità appunto normale io posso anche attivare il contorno e questo è il contorno del piano di sezione attivato che volendo posso anche spostare quindi questo è l'ingombro del piano di sezione quindi posso anche spostare il contorno del piano di sezione ad esempio anche là quindi allargare e dimensionare meglio il piano di sezione una volta definito possiamo anche vedere il terzo modo che poi è sempre questo contorno quindi nella tavolozza di proprietà abbiamo gli stessi controlli e volume questo è il volume della sezione normalmente usiamo solo il piano che è più semplice il piano di sezione quindi ha una serie di controlli di grips che vediamo in dettaglio allora abbiamo sulla linea di sezione che è quella tratteggiata abbiamo un grip menu che abbiamo appena visto sono dei classici grip che selezionati mi permettono di dimensionare il sistema e poi ho una serie di altri controlli rappresentati dal gismo spostando il gismo secondo gli assi classici dello spostamento come si può vedere io posso spostare il piano di sezione in realtà perché il piano di taglio lo devo ancora creare seleziono ancora il mio piano vedo che posso anche sezione 3D visualizzare la sezione sì oppure con l'opzione no non visualizzare la sezione oppure posso anche sempre con il destro sopra il piano di sezione mostrare la geometria di ritaglio quindi in questo caso ho l'oggetto tagliato in rosso e il piano di sezione visualizzato con un certo colore che può essere anche modificato grigio oppure ad esempio giallo riattivo o disattivo quindi mostra il piano di taglio oppure attiva la sezione quindi io posso controllare la visualizzazione della sezione attivo tutte e due attiva la sezione e mostra la geometria di taglio in pianta si può vedere bene il piano e la visibilità vediamo una seconda opzione che posso fare su un piano di sezione aggiungi una riduzione riduzione è quando si crea un piano di sezione non perfettamente lineare ma che segue alcune geometrie piano di sezione selezionato mi chiede qual è il punto di taglio quindi qual è il punto di rottura della sezione ad esempio punto vicino seleziono un filtro e voglio andare vicino all'asse ecco il sistema mi fa ovviamente una sezione quindi un piano di riduzione come lo chiama invertito rispetto a quello che voglio fare io posso semplicemente prenderlo e modificarlo ad esempio portandolo all'intersezione quindi contro il destro mouse intersezione delle due assi che chiaramente ho lasciato visibili vado in pianta ecco esattamente quello che volevo cioè un piano di sezione modificato cioè un piano di sezione variabile che segue gli assi dei fori principali